Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Cazzo questa a sinistra Questa è un panettono a sinistra Vabbè va bene così Va bene così hai brutte scappi ma ne hai perso un euro Grazie Alec a qui 3 Spamma a panettoni brutti porci eh Paccodio Adesso incominciamo a formalizzarci perché io penso che anche tu non sapevi di stasera dove ti ritrova a fare una serata casinò col tocco Sei sempre te Il lunedì c'ho la mia Lui ci infila in mezzo Noi qua No ragazzi aspera aspera No no te mi sta zitto Aaaaaaaaa Io prendevo il blu Io sarei andato sul blu E se te non le riprende il blu Io mi ammazzo Si si siete sicuro il 2 Si sono 1.370 euro Ecco il 2 tiè eccola Il 2 è il 9 Olo vero Veloci 空 �allà U優olo No ragazzi grande blocco Un secondo 'm Grazie a tutti. Tu 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 tu. Martins, grazie per il sabbetto kiftato, ma ne voglio 10, mi dispiace. Gianco sta creando qualcosa, ma non lo vedo. Ho vinto, Gianca. Cosa cazzo era? Ho visto lo scacco matto in sette mosse Bam Mamma mia E questa Se vogliamo prendere i pari Però capito il concetto avrebbe Quella è grande cassata se ne entra uno di quelli Cioè tu Marzo dici Praticamente Tutte le puntate è un qualcosa in comune Praticamente si Il numero che ti giochi te lo puoi giocare Ovunque Poi betta su tutte le cose e incassi Il 4, il 2 e l'8 E' buono Gianchi ma tu devi sta zitto però Non si parla con la palla che si muove Tipo che ne so 4, 2, 8 Che sono tutti e 3 neri Tutti e 3 pari Vi viene da vomitare Non tanto per la lunghezza del cazzo Ma per l'odore Samba grazie per i 3 Ben tornato Andrew grazie per i 3 Ah ecco ecco l'ultima cosa Che dovevo dì Oh vedi Oh vedi che c'è Oh No Ragazzi male ma nessuno mi appoggia il twitch con quindi ho troppe robe da fare ma pure tu dovresti avere troppe robe da fare capo andammoci insieme alle grazie per gli undici c'è danno del 5 stelle con la postazione per stream te danno karma però questa partita se ne è mangiata un po' eh grazie per i sedici bentornato poldo grazie per i 19 ha giocato solo il lipsia rega tocco per adams da parte di incuncu la conclusione di tyler adams tocco per adams nel senso che gli ho dato io auguri emanue poldo bentornato non è messo fuori angeligno al volo angeligno possiamo ucciderlo tu gli giri intorno e attiri la sua attenzione poi ci penso io dopo di te fenomeno ok senora perché si scherzo altro 10 siiii a 5 vincolo grazie poco schiazzi vanno a vedere il saldo fanno a vedere il saldo guardiamolo in faccia pardon fammi vedere una cosa home 0 snow bet win virgola no io me lo so scordata a betta un po' è Io darei la fica La mia fica 10k Quanto stiamo Comunque è incredibile Come sono così troppo più forte a giocare d'azzardo Cioè la gente io continuo ogni volta A di che non si possono fare i soldi Ma poi ogni volta Mi devo smentire facendo capire Che se sei intelligente li puoi fare Guarda guarda come Guarda come ha sorriso Ha fatto sì con la capoccia Pure il 4 Ma che me vuoi fare 20 Zanno 17 Vabbè me la mezzo Ma si chiama davvero Will I am Incredibile È pazzo È pazzo A quanto stiamo Il mio amico Kfrenizi non me lo appoggia E quindi domani Invece di trovarmi a Napoli a mangiarmi il pesce Mi ritrovo a Chiara Valle Ma non sono una puttana Puttana Un bacio a chi mi ama Un altro a chi mi infame Ho apparecchiato in cucina Il piatto è stato servito ce n'è Regà regà Invece di far cazzate al volante proprio Una cosa al volo regà Mi fate una clip Mi fate una clip Fate una clip random del canale Vedete se c'è il volume Prima di Prima di Porci Forco Dio Gli alunni A me 10 ragazzi Sì 10 back to back Sì forco Dio 10 Red di Roma Oddio non è che c'è via Siete Romano Francesco Siamo arrivati a 10 Francesco No ma com'è No manca un altro No ragazzi non è possibile Te prego Ce l'ho duro Ce l'ho duro Ce l'ho duro Non lo riesco a sopportare Porca madonna Ma che cazzo è Sta con i Johnny Allora Allora Marzo Noi all'inizio Ci abbiamo due giri Quindi tiriamo una volta E poi tiriamo Allora